io! tu sai come si... ah ecco guarda si metteci vuoi mettere qui questo? ciao a tutti! saluta a tutti! ciao a tutti! noi oggi giochiamo a un gioco di play do con questo qui eccolo qui mi sta facendo la pizza rossa Mirko sta facendo la pizza rossa e io vi faccio vedere questo gioco si accende lui gira e apre il suo cappellino e mentre apre il suo cappellino noi dobbiamo sparare una pallina di pongo sento a non tenerlo mamma aperto ok quasi e io faccio col verde dai fai un'altra pallina ma lo sai che si può fare la pallina anche qui? tu metti qui metti qui il pongo metti qui il pongo schiacci eccola la pallina hai visto? aspetta che si apre davanti a te vai dove è andato? qua ah ce l'hai fatto che bravo io ancora devo tirare fuori il pongo tu mi superi sempre ecco ecco no non ce l'ho fatta prova a fare più piano prova a fare più piano dai 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 ma perchè abbiamo le pile scariche cambiamo le pile si dai papà lì guarda se vuoi dammela chi è? dove? guarda qui qui ci sono i posti per fare le formine guarda allora io faccio guarda gelato verde gelato verde cos'altro possiamo fare? la casetta guarda la casetta a te sei dispettoso oggi eh? non ti piace questo gioco? facciamo varie formine? no dai allora qua lo spegniamo e facciamo le formine lasciamo acceso vuoi lasciarlo acceso? si ok noi andiamo a cercare un altro gioco con pongo e ci vediamo dopo ciao 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 guarda quante cose che ho fatto ciao tutti questa volta giochiamo al dentista play doh si mamma ho 3 denti qua si dobbiamo fare i dentini che qua abbiamo la fornina per i dentini si? si e facciamo dei dentini ecco i denti allora un dente è uscito bene l'altro dente non è uscito bene mamma chi è? allora questo lo montiamo qui si perché è sopra il signore deve avere la fornina signore senza denti mettetemi i denti no gira il dente è brutto anche io ah ma lo sai che questi dentini più grandi e questi sono più piccoli e quei più piccoli vanno davanti lo sai? ma più grande sì perché tu lo facciamo zack e li uniamo ah visto? oh guarda vedi così esce bene il dentino si aspetta aspetta che lo tiro fuori vedi come esce bene il dentino abbiamo trovato il modo da fare i dentini belli allora quei sono brutti ah perché togliere? uno lo mettiamo qui uno lo mettiamo qui e tocco uno dentro non ditto mamma aspetta arriva un altro aspetta aspetta che dobbiamo fare anche dall'altra parte così si appiccita e formano un dente intero è faticoso fare il dentista eh hai visto? tu dente? no aspetta quello è da rifare ah un po' vero è tutto brutto si mamma però i denti anche rossi anche rossi può fare di tutti i colori di tutti i colori i denti? guarda aspetta cosa si fa si si fanno queste cosine vedi? blu ah dentro si dopo quello quattro quindi lavi i denti lavi i denti? questo mettere qua e poi con questa si fa così guarda guarda un po' guarda un po' è fatta apposta devi schiacciarlo adesso togli aiuto amore che fai? che fai? ho messo questo ancora bambini lo sapete che bisogna lavare i dentini? la mattina e la sera? eh? così avrete i dentini tutti sono belli bianchi vero? altrimenti rimanete senza denti iscrivetevi schiacciate la campanellina e un pollicione in su ciao ciao